Come è cominciata e sta andando avanti? Come è cominciata e sta andando avanti alle regole, problemi legati all'investimento, problemi legati alla manutenzione e quindi alla qualità di tutto il sistema. Noi che ci operiamo tutti i giorni ne paghiamo le conseguenze forse prima degli altri e abbiamo bisogno di affermare i nostri bisogni, i nostri concetti che sono molto vicini a quelli dei cittadini perché sono quotidiani. Grazie Grazie